Nicola Zanon, direttore App Industria Venezia. Ci puoi spiegare come stanno andando le aziende qui nella città metropolitana di Venezia e non solo perché voi fate anche Treviso eccetera? Ma nella situazione economica nella nostra territorio di competenza vede alcuni settori particolarmente colpiti da quelli che sono le restrizioni sia nazionali che regionali che sono stati introdotti per limitare gli impatti del coronavirus. In particolar modo il comparto della ristorazione, dei pubblici esercizi e del turismo sono i settori che stanno pagando il prezzo più alto di questa situazione con limitazioni fortissime a quelli che sono i loro orari di operatività. Mentre per quanto riguarda il comparto manifatturiero che rappresenta la principale componente fra i nostri associati, sta dimostrando ancora una volta una capacità di resistenza notevole. I volumi produttivi sono ancora molto elevati, stiamo tentando il recupero dei mesi persi del primo lockdown di marzo, aprile e maggio. Certo, ci preoccupa l'andamento dei dati epidemiologici, ci auguriamo e stiamo lavorando su tutti i fronti affinché non ci siano restrizioni verso le nostre aziende e noi stessi però ci stiamo sforzando di mantenere altissima la guardia nel rispetto dei vari protocolli per rendere le nostre aziende, mantenerle sempre più sicure. Facciamo anche delle azioni di screening nei confronti dei dipendenti per monitorare che non vi siano casi positivi. Nel caso di soggetti incerti, in dubbi, attiviamo anche delle operazioni di quarantena, di autoesolamento, proprio per non mettere a repentaglio la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori. Quindi ci stiamo impegnando al massimo affinché la continuità produttiva sia garantita.